Ciao a tutti cari ascoltatori di Meteo e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Oggi su questo canale torneremo a parlare di maltempo, perché il maltempo sta per arrivare. Tempesta atlantica in arrivo e pronta all'impatto su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia. Insomma, una situazione meteorologica veramente, scusate, molto interessante e anche curiosa da andare ad analizzare. Ma come sempre, prima di tutto, vi voglio dire che se siete appassionati di meteorologia, volete avere previsioni meteo in tempo reale, affidabili e precise anche per il vostro territorio, siete sul canale Meteo giusto. Quindi non aspettate altro che iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornato e costa ben 0€, totalmente grazie. Iscriviti. Bene, detto questo, iniziamo subito a vedere la situazione meteorologica in questo momento. Alta pressione che inizia a perdere le potenze a partire dalla giornata di domani, prima è stabilita sulle regioni del centro-nord. Aria più fredda che si farà sentire soprattutto lungo l'Adriatico e le regioni del nord-est come Friuli, Trentino e Veneto. Sul resto d'Italia cosa accadrà? Infiltrazione dell'aromida che interesserà tutta la nostra penisola, levato le nostre due isole maggiori che qua non avranno grandi effetti. Ma aspettate perché intanto, nel frattempo, un minimo depressionario proveniente proprio dalla Gorrellandia si andrà a buttare direttamente nel Mediterraneo. In concomitanze di questo si andrà a creare una vera e propria tempesta atlantica, pensate bene un po', con un minimo al suolo fino anche a 940 hectopascal. Un minimo veramente mostruoso. Come si può vedere, intanto anche un minimo profondo fino a 990-980 hectopascal si andrà a gettare nel Mediterraneo e andando a interessare proprio la nostra penisola. Le regioni più coinvolte saranno la Toscana, la Liguria, Lombardia e Piemonte, ma anche il resto d'Italia avrà delle precipitazioni molto molto intense. Nel frattempo questo minimo depressionario veramente profondo porterà del maltempo intenso su gran parte d'Europa. Le regioni più coinvolte saranno Francia, Germania, Portogallo, Inghilterra e anche gran parte dell'Italia, soprattutto sulle regioni del centro nord, come si può vedere da queste immagini. Un minimo depressionario, pensate un po' ben grande, praticamente dall'Atlantico fino alla Russia. Veramente un mostro di perturbazioni. Una vera e propria tempesta che farà ingresso sull'Europa a partire dalla giornata del 26 di marzo e che si sentiranno i suoi effetti almeno fino alla giornata del 30. Per quattro giorni questo minimo depressionario porterà maltempo e precipitazioni intense. Per quanto riguarda l'Italia, un attimido tentativo di alta pressione e aria calda si farà vedere soprattutto sulle regioni del medio e basso terreno, con termiche che possono arrivare anche fino a 25-26 gradi sull'estremo sud. Però dopo poco l'ex tempesta si andrà a gettare definitivamente sull'Italia portando nuovamente del maltempo proprio per i primi di aprile. Insomma, un'evoluzione meteo molto molto interessante, pronta a portare dei grandi colpi di scena. Dando proprio a vedere le precipitazioni, che adesso andiamo a vedere come andranno a essere distribuite più o meno. Questo è solamente a scopo informativo e per avere un'idea a grandi linee di come potrebbe andare a evolversi la situazione. Ma prima di vedere proprio le precipitazioni, volevo dirvi che le statistiche di YouTube purtroppo parlano chiaro. Ben oltre il 53% di voi che guarda tutti i giorni i miei video non è scritto, siete troppi. Se apprezzate i contenuti, gli impegni, le dedizioni che ci metto per portarvi queste previsioni meteo, datemi una mano, iscrivendovi al canale e attivando la campanella, così da arrivare a 50.000 iscritti entro l'inizio di agosto. Ringrazio chi si è iscritto e adesso continuiamo con il video andando a vedere proprio le precipitazioni. I precipitazioni che, come ho detto, a causa dell'instabilità in arrivo si faranno vedere nelle prossime ore, soprattutto sulle regioni del nord-est e in generale del medio-alto Adriatico, con accumuli che al massimo raggiungeranno i 20 mm sulle Alpi di confine, non accumuli superiori. Per quanto riguarda invece il vero maltempo, si inizierà a far vedere a partire dalla giornata del 26. Qua, come si può vedere, forti precipitazioni in locali e anche possibili temporali si andranno ad abbattere su gran parte della Liguria, di Ponente e dell'Alta Toscana. Come si può vedere, accumuli che localmente nel giro di pochissime ore potrebbero superare notevolmente anche i 90 mm. Nuova fase di maltempo poi attesa a partire dalla giornata del 29, quando nuove precipitazioni abbondanti si farebbero vedere sulle regioni del nord-ovest, portando accumuli che localmente potrebbero essere superiori ai 200 mm. Questi accumuli sono attesi superiori ai 200 mm, soprattutto sulle aree interne, quindi appenniniche di Liguria, Toscana, e sulle aree alpine del Piemonte e della Lombardia. Questo porterà anche nevicate abbastanza abbondanti, però a partire da quote medio-alte, e quindi a partire dai 1500-1700 metri sulle Alpi e a partire dai 2000 metri per quanto riguarda l'Appennino. A causa delle temperature si fredde, ma ovviamente non più come era fino a qualche settimana o mese fa. Ecco, più o meno questa è la situazione, andando proprio a svedere anche le temperature rapidamente, come possiamo notare in questo momento aria calda che sta interessando soprattutto la Spagna, Poi l'aria calda che si farà vedere sulle regioni dell'estremo sud, quindi tra Sardegna e Sicilia, nella giornata del 26 marzo, aria più fredda, come si può notare da queste immagini, che farà ingresso sull'Italia, aria più fredda che farà ingresso sul nord-est, fino anche a meno 4 gradi a 1500 metri, e poi comunque in generale una piccola risalita di la calda, come appena detto, sulle regioni del centro-sud, mentre sul nord termiche che è in circa saranno complete tra i 8 e i 0 gradi a 1500 metri. Questa conclusione del marzo, poi proprio con i primi di aprile, il nuovo affondo freddo è atteso, subito dopo l'ondata d'aria calda, che vi stavo dicendo, possibile verso il primo proprio di aprile, ma ovviamente questo prima di saperlo ci vorrà passare ancora un po' di tempo. Insomma, questa è la situazione, non ci rimane altro che lasciarci così e trovarci con nuovissimi aggiornamenti meteo.